Quindi diciamo che c'è sicuramente un'infanzia che un po' di disturbi può aver generato, questo senso, e il fatto di essere stato, come possiamo dire, il supplente di una mancanza e quindi anche il domandarsi chi sono io. Quindi diciamo che da quando era piccolissimo probabilmente qualche difficoltà di rapporti familiari avuti. Replive.it The Next Step